musica sera allora ragazzi a breve l'arrivo delle pin-up a breve la sospensione delle prove libere del cielo una mezzoletta di pausa per il nostro staff che sono veramente tantissime ore che sono lì per aiutarvi ai tempi a prendere la segna per l'altro per l'arrivo delle pin-upi a breve l'arrivo delle pin-upi a breve la sospensione a breve l'arrivo delle pin-upi 27 grazie l'arrivo delle pin-upi l'arrivo delle pin-upi a breve l'arrivo delle pin-upi l'arrivo delle pin-upi ciao